Purre fine a ogni povertà nel mondo. Nonostante gli indici di povertà estrema si siano ridotti di oltre la metà nell'ultimo quarto di secolo, nei paesi in via di sviluppo restano centinaia di milioni di persone che non arrivano o superano di poco un dollaro e 90 centesimi al giorno. E resta il dramma di chi nella povertà rischia di ricaderci o di caderci per la prima volta. E povertà significa fame, scarsa istruzione, scarso accesso alle cure mediche, esclusione sociale. Il coinvolgimento di un paese come il nostro è visto più come promotore di iniziative e di solidarietà verso i più poveri. Le cifre che ci riguardano parlano tuttavia di 4 milioni e mezzo di italiani sotto la soglia di povertà. Ed è per questo che risulta importante accrescere la resilienza delle persone che per ragioni varie che vanno dalla perdita del lavoro alla malattia anche alla separazione coniugale si trovano all'improvviso in condizioni di indigenza. Qual è la situazione? Quali le politiche? Ne parliamo con Chiara Agostini, percorsi di secondo welfare, associazione partecipante al gruppo di lavoro ASVIS sul gol numero uno. E con Gianni Bottali, coacli, referente ASVIS del gol numero uno, al quale chiedo chi, con più di 4 milioni e mezzo di poveri in Italia e altre fasce di popolazione in serie, difficoltà rischia oggi di più. Rischia di più il paese, rischia di più il paese per la sua coesione sociale, rischia il paese perché oltre ai 4 milioni e più di poveri in povertà assoluta, dobbiamo tener conto che ci sono milioni ancora di persone in una situazione di povertà relativa. E questo significa una grande parte del paese, un terzo del paese che è in serie difficoltà. Ed è evidente che chi rischia in questo momento il paese, chi rischia è il paese nella sua coesione sociale, ma mi permetto di dire anche che rischia il paese nella sua espressione anche economica perché ritengo e credo che senza questo è difficile immaginare una ripresa del paese, un pil che ricresce, un paese che rialza la testa. Con l'approvazione a marzo scorso del disegno di legge sulla povertà, Chiara Agostini, possiamo dire che il nostro paese è a una svolta? A una svolta, se vogliamo usare questo termine, è certamente ottimistico, direi che in realtà c'è stata prima di marzo, una svolta se appunto vogliamo così chiamarla, in realtà c'è stata a ottobre del 2015 quando è stata approvata la legge di stabilità per l'anno successivo, per il 2016. Questo perché all'epoca, per la prima volta nel nostro paese, sono stati previsti finanziamenti strutturali in materia di contrasto alla povertà. Che significa? Significa che sono stati previsti finanziamenti stabilmente iscritti fra gli interventi di finanza pubblica. Tra l'altro poi è stata la stessa legge di stabilità per il 2016 che ha previsto l'approvazione della legge delega, laddove l'obiettivo era sostanzialmente quello di unificare tutte le prestazioni esistenti per arrivare appunto a una misura unica di contrasto alla povertà. E questo è il passaggio che si è realizzato lo scorso marzo. L'Italia ora sarà in grado di dotarsi di un reddito di inclusione al pari degli altri paesi europei? Questa è una domanda difficilissima, nel senso che certamente con l'approvazione della legge delega per la prima volta abbiamo una misura strutturale di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione o REI. Quindi di sicuro siamo di fronte a un passaggio storico, un passaggio storico che però non è ancora terminato, cioè sostanzialmente adesso rimane da capire se questa misura riuscirà a meno o meno a diventare universale o universalistica. Significa che bisogna capire se questa misura riuscirà effettivamente a raggiungere tutte le persone in condizione di povertà assoluta. Se appunto l'obiettivo è quello di avere un reddito minimo al pari degli altri paesi europei. E quindi in sostanza è necessario che la delega sia un punto di partenza di una politica nazionale che deve ancora svilupparsi, quindi dobbiamo considerarlo un punto di partenza piuttosto che un punto d'arrivo. Bottarico, lo chiedo anche a lei, un reddito di inclusione può essere una risposta? Il reddito di inclusione che non è un pagare la povertà, che non significa soltanto un contributo di carattere economico, ma che significano serie politiche di inclusione sociale, dove oltre a un reddito di carattere monetario ci sono anche una serie, una rete di servizi di supporto oggi a chi è nella posizione di povertà, significa oggi come rete di inclusione dare l'opportunità a chi è nella povertà assoluta di uscire da questa situazione con dignità e di ritornare in un processo virtuoso che è quello di una vita naturale. Quindi un reddito di inclusione così immaginato, così visto, che rivede anche il sistema nostro di welfare, lo ridisegna nelle competenze, ecco io credo che questa è la grande sfida che può aiutare appunto ad alzare la testa. Chiara Agostini, che tipo di politica nazionale è auspicabile e sia consolidata? Ecco, sicuramente qui ritorno sulla questione della necessità di introdurre una misura universalistica e quindi di raggiungere effettivamente tutte le persone in povertà. In questa prima fase si è scelto di rivolgere la misura ad un target specifico che prevalentemente riguarda in questo momento le famiglie con minore, quindi è un target ancora molto ristretto. Quindi il primo auspicio è appunto arrivare a una misura universalistica. Poi c'è un'altra grandissima sfida che riguarda i percorsi di inclusione sociale che dovranno essere realizzati a livello locale. Questo perché il REI prevede da un lato un trasferimento economico, ma prevede anche che i beneficiari si impegnino nella realizzazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale che rimane competenza dei servizi sociali locali. La vera sfida in questo caso è quella di attivare servizi di qualità e servizi che siano in qualche modo coerenti in tutto il paese. Questa è una sfida importante proprio perché sappiamo che in Italia ci sono dei grossi divari territoriali. Bottarico, quale ruolo tocca a un paese come il nostro nel lavoro per ottenere migliori condizioni di vita globali? Evidente, noi siamo una potenza, lo siamo ancora, nonostante la crisi siamo uno dei più potenti dal punto di vista economico, realtà globali del mondo. Abbiamo ancora un asset industriale importante e significativo. Siamo un paese che ha la responsabilità insieme ad altri, in Europa soprattutto, e con l'Europa di avviare un percorso di una nuova, una nuova riflessione che consenta al mondo globale oggi di affrontare un futuro. Un futuro, mi permetto di dire, anche di giustizia, un futuro di benessere che credo che ci siano le cose su quale puntiamo appunto come alleanza per lo sviluppo sostenibile. Agostini, percorsi di secondo welfare, tra i goal individuati dalle Nazioni Unite ce ne sono più di uno che attraversano orizzontalmente gli obiettivi fissati per il 2030. Sto pensando all'educazione di qualità. Quanto possono influire progressi in questo senso con la lotta alla povertà? Questa è una questione importantissima perché l'educazione può svolgere certamente un ruolo di primo piano nel contestare la povertà. Si tratta di un tema sul quale peraltro insiste già da tempo Save the Children. L'idea di fondo è che la povertà, intesa come povertà materiale da un lato, e la povertà educativa si alimentino a vicenda, dando sostanzialmente luogo a un circolo vizioso. Cioè, in sostanza, la povertà materiale di una generazione tende a tradursi nella contrazione delle possibilità educative della generazione successiva, determinando così nuova povertà materiale e di nuovo nuova povertà educativa. Quindi per rompere questo circolo vizioso, investire in un'educazione di qualità è centrale. Questo soprattutto se vogliamo abbracciare una logica di lungo periodo nel contrasto alla povertà. Tra l'altro, l'adozione di una prospettiva di lungo periodo è assolutamente necessaria, tanto più se teniamo conto che i minori sono fra le categorie che stanno pagando il prezzo più alto della crisi. Più o meno nel decennio, tra il 2005 e il 2015, la povertà infantile, la povertà delle famiglie con minori è sostanzialmente triplicata. Quindi su questo punto è necessario che le azioni siano assolutamente rafforzate. Qualcosa è stato fatto, dicevo prima che il re si rivolge alle famiglie con minori, qualcos'altro è stato fatto anche con l'istituzione del fondo povertà educativa, ma considerando la drammaticità della questione minorile, questo è un punto su cui bisogna veramente rafforzare gli interventi. A partire appunto dall'educazione e prevedere interventi che riguardano sia la prima infanzia, ma anche le fasi successive, quindi ad esempio il contrasto alla dispersione scolastica. Bottarico, lei condivide? È una sfida non soltanto di carattere sociale, ma una sfida di carattere economico. Quindi è chiaro che questo riguarda la vita della gente, la vita di ciascuno di noi, e credo che si intrecci fortemente con quasi tutti gli altri obiettivi che ci sono, che abbiamo individuati soprattutto. Quindi credo che la lotta alla povertà oggi si intrecci fortemente con tutti gli altri temi, parliamo di istruzione, parliamo di buona salute, parliamo di fame nel mondo, parliamo di parità di genere, parliamo di lavoro, e credo che la lotta alla povertà riguardando la vita delle persone si intrecci fortemente con tutti. E non è soltanto più unico, cioè dalla lotta alla povertà verso gli altri, ma anche verso gli altri, verso la lotta alla povertà.